Più 22% di nuovi positivi sui sette giorni. Tornano a salire i contagi da coronavirus nel nostro paese, ieri 87.000 contro i 29.000 di martedì, giorno però successivo ad un lungo ponte festivo. Cala il tasso di positività grazie al forte aumento nel numero di test, ma il confronto settimanale mostra che il Covid è ancora molto diffuso tra la popolazione, anche se all'aumento dei positivi non corrisponde una maggiore occupazione degli ospedali. Sempre sui sette giorni calano infatti i ricoveri in terapia intensiva e restano stabili quelli nei reparti Covid, segno di un virus sicuramente meno aggressivo e soprattutto grazie alla protezione data dai vaccini al 90% della popolazione. È atteso per oggi intanto il Consiglio dei Ministri che prolungherà l'uso delle mascherine al chiuso almeno fino alla fine di maggio, l'ipotesi più probabile che resti obbligatoria sui mezzi pubblici, nei cinema e nei teatri, oltre che negli ospedali e nell'RSA, mentre potrebbe essere tolta nei luoghi di lavoro.